Spunti di vista, parliamo di Marcenando, si è svolta la quarta edizione nel paese alle porte del Casentino, ne parliamo insieme con Barbara Lapini che è presidente dell'Associazione Culturale Marcenando, grazie per essere qui con noi insieme in studio. È stata una quarta edizione di successo, dobbiamo dire. Sì, abbiamo tutti raggiunto un livello di felicità entusiasmante perché abbiamo avuto un sacco di adesioni sia dell'autorità, infatti c'è stato il patrocinio della regione toscana piuttosto che quello della provincia d'Arezzo, del comune d'Arezzo, di Arezzo Comunità, i comuni di Subbiano e Capolona che si sono uniti in questa grande rete che poi è sfociata in questa manifestazione che quest'anno ha visto più di mille partecipanti e soprattutto ha visto l'aumentare degli artisti che hanno esposto per oltre 3.000 metri del paese più di 170 opere d'arte. Quindi un'opera d'arte direi itinerante, una sorta anche di rigenerazione urbana per il paese. L'obiettivo era proprio quello di poter valorizzare il territorio, l'arte, le passeggiate e soprattutto di fare comunità. Ci siamo riusciti unendo appunto varie associazioni importanti sia del territorio limitrofo che la nostra stessa associazione e è stata veramente una cosa diciamo anche commovente perché hanno dato adesione delle associazioni come ad esempio l'associazione Crescere che ha portato i ragazzi a presentare le opere d'arte piuttosto che l'associazione della linea Karin di Subbiano che ha portato i reperti storici nel campo della memoria Memento. L'Unione Scechi che quest'anno ha dato avvio al progetto di rendere fruibile ai non vedenti e agli ipovedenti il percorso di marcenata attraverso i cartellini tradotti in Braille o con il QR code. Oppure ad esempio parliamo anche delle associazioni militari, abbiamo avuto un sacco di riconoscimenti anche dal punto di vista militare. infatti erano presenti sia la Guardia di Finanza che i bersaglieri, che i paracadutisti, che la Croce Rossa stessa che ha visto inaugurare il proprio monumento e anche i militari, il corpo dei militari. Siamo stati veramente entusiasti da tutta questa solidarietà e coinvolgimento da parte di tutti. Questa è un'esperienza che esiste in altri paesi europei, penso per esempio all'Inghilterra, vale a dire quello di creare il Borgo Museo. con possibilità per coloro che lo vogliono in qualsiasi momento di vedere le opere esposte e anche direi di partecipare, di integrarsi un po' alla vita stessa del Borgo, del paese. Voi cercate di fare un po' la stessa cosa a Marcena? Sì, noi cerchiamo di valorizzare, di fare comunità e quindi estendere il nostro progetto, la nostra idea, diciamo nel sociale ma anche nell'arte, alla realtà vicino, agli artisti di Arezzo e non di Arezzo, che si uniscono al nostro sogno per poter far crescere questo percorso. Infatti quest'anno si sono aggiunti altre sei opere stabili che rimarranno donate dagli artisti a Marcena, oltre appunto alla grande novità che è stata quella dell'esposizione di oltre 160-170 opere mobili. Ecco, c'è da aggiungere anche un altro particolare, che col passare del tempo il coinvolgimento anche delle stesse istituzioni a questa manifestazione è sempre maggiore. È sempre maggiore perché ci credono, ci danno fiducia, hanno trovato questo progetto innovativo e addirittura hanno detto che è un esempio da seguire. Questo ci riempie proprio il cuore di orgoglio e soprattutto ci rende molto più leggeri le fatiche per poter riuscire a fare queste manifestazioni. Barbara, lo hai accennato già in precedenza, quanto è stato coinvolgente il fatto che alcune opere d'arte siano state spiegate proprio dai ragazzi dell'Associazione Crescere? Tantissimo, perché questo ha dimostrato che il fare rete, il credere che l'arte sia un bene fruibile da tutti, sia una cosa vincente. Perché l'arte crea emozione nell'artista che la produce, ma soprattutto trasmette emozione a chi la vive, la vede, la sente. Quindi anche i ragazzi, l'Unione Ciechi, piuttosto che tutte le altre associazioni hanno dato il loro sentimento per questa cosa. Una delle cose che a noi ci ha commosso è anche l'aiuto proprio materiale delle persone, come per esempio i bersaglieri che sono venuti a fare l'erba, piuttosto che l'associazione di Intra Chiasse Tarno che sono venuti a montare con noi, a smontare, a pulire. Quindi veramente un coinvolgimento generale dei nostri amici. Il vostro obiettivo è quello che Marcena diventi in fondo anche un po' così un modello anche di esperienza, un'esperienza da esportare anche altrove? Perché sicuramente ci saranno anche contatti in futuro con altre realtà, perché finisce sempre così il discorso, no? Sì, contatti ce li abbiamo già e vogliamo crescere perché è un sogno che deve essere condiviso. Dobbiamo fare comunità nel nostro vicinato, ma soprattutto dobbiamo fare comunità in generale, perché questo è l'obiettivo. E quest'anno un obiettivo a proposito di comunità che Marcena ha raggiunto grazie agli sponsor generosissimi che hanno contribuito è quello di dare il DAE, il defibrillatore, a Marcena e i suoi paesani. Quindi c'è anche ovviamente una finalità sociale particolarmente importante. Sono molte le attività che si svolgono a Marcena, in genere è un borgo che si sta, un paese che si sta rivitalizzando, no? Per chi non lo sapesse, visto che trasmettiamo anche in tutta la regione, quindi anche al di fuori della provincia di Arezzo, Marcena è l'ultimo paese del comune di Arezzo prima dell'accesso in Casentino, venendo da sud verso nord, andando da sud verso nord. Esatto, le iniziative sono tante e Marcena Ando già sta pensando al 2025 con il coinvolgimento di nuovi artisti, nuove opere e un arricchimento anche del campo della memoria che quest'anno appunto ha dedicato il proprio monumento alla Croce Rossina. Infatti erano presenti la Croce Rossa con due bellissime Croce Rossine in tenuta storica che veramente hanno conosco. E quelle abbiamo viste poi anche in fotografia. Va detto che questa edizione non si è segnalata soltanto per l'esposizione artistica di opere ed arte, di quadri, di pitture, ma anche per la presentazione di alcuni libri? Assolutamente, ne abbiamo avuti ben quattro di autori locali, tutti diversi, con temi diversi, ma che hanno riscosso un grande interesse e adesione e per questo pensiamo appunto di fare un salottino letterario anche per il prossimo anno perché tanti autori hanno chiesto di partecipare alla nostra edizione 2025. Allora ricordiamoli per esempio questi quattro libri, ti vengo a cercare, Francesca Martinelli ha proposto una biografia dell'artista di Marcena Gian Lorenzo Palazzi, poi Una vita antica di Vincenzo Valtriani, Gli occhi addosso di Laura Capacioli e Rimbocco a cura della Proloco Giovi Intrachiassa e Tarno. Sono stati questi i libri che sono stati presentati e che immagino siano stati accompagnati anche da buoni riscontri di pubblico. Ma assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi è una cosa da, è un'altra arte quella della scrittura da dover includere nel grande mondo di Marcena. Abbiamo parlato delle istituzioni, abbiamo parlato della provincia che ha dato il suo contributo, il Comune di Arezzo evidentemente, lo stesso Consiglio regionale della Toscana. Ricordiamo anche il Comune di Subbiano, perché? Perché Marcena non è nel Comune di Subbiano, Marcena è nel Comune di Arezzo. Però avete cercato comunque di stabilire rapporti amichevoli anche con i comuni limitrofi. Esatto, sì, Subbiano come Capolona, infatti molte associazioni, appunto la Misericordia, piuttosto che la Lignacarim, piuttosto che l'associazione Crescere, sono dei comuni limitrofi, ma l'arte non ha confini, come del resto il sociale non ha confini. Quindi più persone si coinvolgono e sicuramente più ricchezza viene fuori da questi rapporti. Vi erano appunto laboratori anche per bambini, curati proprio dalla Misericordia di Subbiano. Qual è stata la risposta dei bambini? Ma assolutamente gigantesca. Perché sappiamo tu hai sempre avuto particolare riguardo per i bambini. Ricordiamo anche l'esperienza La Banda dei Piccoli Chef, che è stata un'esperienza che ha avuto anche dei riscontri positivi anche altrove. Quindi c'è questa capacità di dialogare quasi naturale con i bambini. Eh sì, e con loro abbiamo, grazie alla Misericordia di Subbiano, avuto cura di un altro tema, che è quello dello zero spreco, del riciclo, del recupero di materiali, per farne delle opere d'arte proprio fatte dai bambini. Noi ringraziamo Barbara Lapini, presidente dell'Associazione Marcenando, per avere condiviso questo spazio insieme con noi a Spunti di Vista, nel quale abbiamo parlato della quarta edizione di Marcenando, che appunto si è svolta con grande successo nel piccolo paese alle porte del Casentino. Grazie ancora Barbara. Grazie a voi. La linea può tornare alla regia.